Comunque ragazzuoli miei questa qui è la cosa più vicina all'incubo di oggi a meno che non ci riservi particolari sorprese la partita contro l'Atletico Madrid che alla fine di tutto si giocherà alle 6 alla continassa quindi da Dio che non vai ad Israele a correre particolari rischi ti eviti una trasferta perché tra l'altro rimani a Torino toccherà stare solamente attenti un pochino a Morata che magari dopo la partita si chiuderà in uno spogliatoio ma è un altro discorso ma non siamo qui a parlare di questo tipo di incubo questo qui avremo modo di affrontarlo tra poche ore siamo qui per un altro incubo che bene o male fa riferimento ad un'altra amichevole ed ovviamente non della Juventus ma bensì del Valencia che ieri ha affrontato l'Atalanta battendola tra le altre cose e poi Gattuso ai microfoni ha detto una cosa che fondamentalmente mi ha ucciso il morale ma prima di entrare nel merito però come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace e a sostenere il canale con un'iscrizione se ne avete voglia, se vi fa piacere perché comunque è una cosa importante detto questo, Rino, uomo che io adoro alla follia e non scherzo che cos'è però che mi va a dire davanti ai microfoni? che ad oggi non c'è la possibilità economica di andarsi a prendere uno come Arthur non scherzare queste cose non si devono dire neanche per sbaglio soprattutto di fronte ad una tifoseria che è stata illusa negli ultimi giorni con una partenza che sembrava ormai pressoché fatta di un giocatore, non dico ormai esubero, di più, peggio e adesso non è che te ne puoi uscire dicendo che non ci sono i soldi innanzitutto vabbè perché comunque fino a prova contraria si parla di prestito secco quindi già l'esborso economico non va fatto se Rino mi dice davanti ai microfoni beh 43 milioni per non far far minusvalenza la Juventus non ce li abbiamo da spendere per Arthur dico cazzo hai ragione anche avendoli non li vai a spendere per Arthur lì io non posso obiettare assolutamente nulla sarebbe una roba fattuale ma nel momento in cui si parla di prestito secco no a quel punto no non so se magari è una strategia comunicativa per cercare di alzare un attimino la percentuale dello stipendio pagato da parte della Juventus dato che si parlava di un 50-50 per quanto riguarda la spartizione del pagamento dello stipendio io sono disposto anche al 60-40 tanti soldi non li sgancio io a me va benissimo a me va benissimo ma ormai si deve scavare dal cazzo anche perché c'è quella regola che purtroppo va sempre rispettata e comprendo nelle dinamiche del mercato della Juventus ovvero che se nessuno esce per forza di cose poi nessuno entra e lo posso capire lo posso capire fondamentalmente lì a centrocampo cos'è è partito Ranocchi in prestito al Monza è partito Ramsey tra l'altro gli hai dato una buona uscita di cos'è 3-3 milioni e mezzo quelli che sono però effettivamente capisco che deve uscire qualcun altro nel momento in cui magari scegli poi di fare un colpo in entrata e quindi tocca trovare una soluzione Rino ci dobbiamo mettere tutti quanti un attimino d'accordo e lo stesso Pastorello lo deve fare perché lui stesso qualche giorno fa ha detto proprio davanti ai microfoni beh comunque la trattativa col Valencia a buon punto speriamo di riuscire a chiudere la trattativa anche perché Arthur merita più spazio allora facciamo una cosa Arthur merita più spazio? va bene tu comunque sei il suo procuratore devi curare i suoi interessi e ci mancherebbe altro che non sia così dal tuo punto di vista ma nel momento in cui lo spazio alla Juventus non c'è tocca trovare un'altra soluzione questo spazio dato che sei un procuratore bravissimo devi essere in grado di trovarlo altrove se proprio magari il problema potrebbe essere quello legato allo stipendio o tocca in qualche modo convincere il giocatore ad abbassarselo ecco bene o male si deve rimettere in mostra se vuole una convocazione per i mondiali stando alla Juventus stai pur certo che i mondiali li guarda a fianco a Chiesa, Locatelli, Bonucci a tutta quella gente lì se rimane alla Juventus proprio fanno i festini tanto il giocatore è solito alla pratica quindi non sarebbe nulla di particolarmente nuovo se invece si vuole effettivamente puntare ad andare al mondiale l'unica soluzione anche solo vagamente plausibile è quella di levarsi dei coglioni poi dopo è il solito fatevobis anche perché veramente ormai non mi illudo più di nulla fino a una settimana fa tra le altre cose sembrava ci fossero 4-5 squadre per Rugani e il Bologna e l'Empoli e il Verona e la Sampdoria e il Galatasaray alcune disposte a pagarti una parte bassa dello stipendio altre a pagarti la totalità dello stipendio il Galatasaray è l'unica solo che anche lì l'estero non va bene anche perché Rugani negli stadi turchi presumibilmente si scagazza addosso è un altro paio di maniche quello lì poi la Sampdoria e l'Empoli no beh ma a Torino si sta bene quindi insomma è quest'incubo che ritorna nell'ultima settimana abbiamo a tratti vissuto un sogno dove due giocatori come Rugani e Artu sembravano lì con le valigi mano pronte a levarsi dei coglioni dopo aver scrocato di quei milioni di stipendio che la metà della metà probabilmente erano comunque sufficienti e c'è niente qualche giorno dopo arriva Gattuso e tamazzi sogni Artu per quanto riguarda Rugani tutti gli esperti di mercato vicino alla Juventus dicono beh a questo punto probabilmente l'ipotesi più concreta è quella che Rugani rimanga a fare il quarto rimarrà a fare il quarto anche perché tanto a sto punto parlando seriamente cosa devi dire se Milenkovic davvero rinnova e rimane con la Fiorentina dopo l'altra alternativa è a Cerbi per carità di Rugani ti prende meno ma non è uno che ti va a svoltare se il quarto deve essere a Cerbi o deve essere Rugani di se Rugani va via e arriva a Cerbi non esulto e non mi dispero però va bene anche che rimanga Rugani nel caso un altro paio di mani che sarebbe stato no parte Rugani arriva Milenkovic Bremer Milenkovic Gatti Bonucci per quanto no magari non quella difesa quanto meno titolare che ti fa caponare la pelle da quanto è fenomenale comunque non è un pacchetto di difessori centrali tremendamente malvagio e invece probabilmente non correremo neanche troppi pericoli troppi rischi già psicologicamente pronto a Tartarugani titolare agli ottavi di finale di Champions League dopo basta perché insomma sappiamo bene o male quello che è stato il percorso negli ultimi anni quindi neanche a proiettarsi più in là del previsto e porca puttana però che botta i sentimenti che è stato sto weekend porca Eva ieri anche è una bella notizia non si va a Tel Aviv non si va a rischiare nulla cazzo arriva la sera Rugani rimane Arthur forse pure non ci sono i soldi proprio da Del Valencia di troviamo una soluzione non si può andare avanti così non si può e speriamo a questo punto che tra oggi e domani riescano davvero a chiudere Kostic che presumibilmente una settimana dopo dovrebbero già essere titolare in campo è così tocca vivere un pochino tutto quanto alla giornata con la consapevolezza però che c'è una buona probabilità che tutto ti vada contro ma fa lo stesso una volta che sei abituato riesci a starci un pochino dentro a queste situazioni e spero di venire no non di venire smentito perché io non ho detto nulla spero che si scavino dei maroni tutte e due il prima possibile tra le altre cose che arrivi Kostic che si verifichi che Morata abbandoni lo spogliatoio della continassa stasera una volta finita la partita e buon viaggio tanti saluti noi ci vediamo appunto dopo Juventus Atletico Madrid io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve a presto 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 a presto